Andiamo a Catania, professor Bennato. Sì, è un'offerta bella, consistente questa settimana. Diciamo che io sono riuscito a collocarmi con diverse pellicole perché stuzzicano diversi aspetti della mia curiosità da cinefilo. Sicuramente in prima battuta, when evil lurks, perché sono un appassionato di horror e poi l'estate è il momento migliore per cercare qualche brivido non dovuto all'aria condizionata. Quindi sicuramente questa è la mia prima scelta, anche perché la dimensione della dimensione del demoniaco in un contesto secolarizzato secondo me è una bella tensione anche dal punto di vista psicologico. Poi in seconda battuta, Twisters, perché secondo me è un film da vedere al cinema perché per vedere quelle catastrofi e quegli enormi strumenti di distruzione quando sono in realtà, che sono il tornado, è sicuramente il cinema il luogo migliore per vederlo. Dopodiché c'è l'ultima vendetta, un po' perché appunto mi piace Liam Neeson in questo periodo che ha fatto la svolta a Cupa e Vendicatrice anche se il film è su toni completamente diversi, mi è imparso di capire. Ma poi perché c'è questa ambientazione in Irlanda che lo rende anche politicamente interessante. Infine, Padre Pio, devo essere sincero, io di solito non sono appassionato a geografie soprattutto per quanto riguarda le vite dei Santi, ma il fatto che ci sia un Padre Pio raccontato da Abel Ferrara e quindi con un occhio internazionale nei confronti di quella che è stata, me lo faccio a dire, anche un'icona pop quando prima che diventasse santo sicuramente permette di capire degli aspetti della nostra cultura immersa nel religioso che altrimenti non riusciremmo a vedere. Sentiamo il professor Bovarino, sempre sull'offerta di questa settimana Guerino Nuccio, Bovarino Professor Bennato, tocca a lei la classifica Ma devo dire la verità, è una classifica che mi riempie di soddisfazione perché ci sono un sacco di pellicole assolutamente belle e interessanti sicuramente molto felice di Inside Out perché Inside Out comunque è una pellicola che merita e che fa finta come spesso capita per queste pellicole di essere per bambini poi c'è Fly Me to the Moon, c'è la maledizione del marketing applicato allo sbarco sulla Luna che secondo me ha anche delle sottotracce sociologiche mica da poco e poi sono molto contento che ci sia anche in classifica un film diciamo così che io voglio andare a spizzarmi molto in maniera dettagliata che è Dostoievski e poi mi rende molto felice il fatto che mi pare di capire che stasera al cinematografo ci sia forte un'atmosfera catanese o mi sbaglio? Perché Cavarelli? Perché ha detto questo il professor? Perché l'attrice Barbara Giordano è catanese Pure io sono catanese Allora, Barbara è stata chiamata in causa lei nata a Catania Giordano, Barbara? Sì, nata a Catania e sono rimasta infatti sento il richiamo di un luogio proprio vedo quell'elefante dietro il professore che mi richiama proviamo a raccontare i primi passi della sua vita a Catania che famiglia? Allora, mia mamma si chiamava Mariella Lo Giudice ed era un'attrice di teatro molto, insomma, molto importante e quindi ho vissuto dietro le quinte per un sacco di tempo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti